E' scattato l'obbligo di riscatto per la Sampdoria, il club blu cerchiato dovrà pagare alla Juve 20 milioni di euro per il portiere Audero. La Juve incasserà una plusvalenza di 19,9 milioni di euro e non si tratta dell'unica entrata di queste ultime settimane per la Juventus. Ne parliamo in questo video. La Juventus è diventata la regina delle plusvalenze in questo mercato invernale. L'ultima, come detto, è stato il portiere Audero, riscattato dalla Sampdoria per ben 20 milioni di euro. Intendiamoci, Audero è un portiere promettente, molto giovane, a 22 anni, ed è alla prima esperienza in Serie A e finora ha fatto molto molto bene. Però, pagarlo 20 milioni di euro è giusto? Voi che ne pensate? Scrivetelo nei commenti. Un dato importante. Questo è il più caro acquisto della gestione Ferrero nella Sampdoria. Il primo era Zapata, comprato dal Napoli l'anno scorso a 17 milioni di euro, per cui parliamo di un investimento molto importante per la Sampdoria. Per un portiere, come dicevo, che ha la prima esperienza di Serie A ed è molto giovane, promettente e sta facendo molto bene. Però, diciamo che il prezzo mi sembra leggermente alto. Però parliamo di un ragazzo molto giovane, per cui il tempo ci dirà chi ha fatto bene. La Juve a vendere una giovede promessa a 20 milioni di euro? O la Sampdoria a comprare un possibile campione a un prezzo alto, ma che le permetterà di rivenderlo magari fra 3-4 anni a un prezzo doppio rispetto a quello che l'ha pagato? Staremo a vedere. Ma Audero non è stata l'unica grande cessione effettuata dalla Juve nelle settimane scorse. Infatti, è della settimana scorsa la cessione di Alberto Cerri, Centravanti, che la Juve ha venduto per 9 milioni di euro al Cagliari. Anche qui parliamo di un altro giovane, 22 anni, molto promettente, ma che finora ha fatto poco in Serie A. E venderlo a 9 milioni di euro, direi che è un grande affare per la Juve, che ha ricavato una plus valenza di 8,4 milioni di euro. Anche qui, prima di giudicare, sarà il tempo a dirci chi ha avuto ragione o torto. La Juve ha venduto a un prezzo così alto o il Cagliari ad acquistare un giovane così promettente a un prezzo di 9 milioni di euro. Dove invece non c'è molto da discutere è sulla cessione di Stefano Sturaro, perché non parliamo di un ragazzo giovane a 25 anni e non parliamo di un ragazzo alla prima stagione in Serie A. Per cui qua credo che si possa dire che la Juve, che l'ha venduto al Genoa per 16,5 milioni di euro, ha fatto l'affare. Adesso non so perché il Genoa ha valutato giocatori così tanto, ma qua sembra chiaro che l'affare l'ha fatto la Juventus. E non parliamo di complotti, di teorie, che la Juve ha forzato la mano al Genoa, eccetera. Non è vero e non è credibile. Certo è che il Genoa ha appena piazzato Piontec a 35 milioni di euro al Milan e quindi aveva una certa liquidità disponibile e hanno preferito investirla su un centrocampista come Stefano Sturaro, che ha un'esperienza in Serie A. Certo il rendimento, a mio avviso, non vale quei 16,5 milioni di euro, però è stata una scelta del club. Questo però ha fatto sì che la Juve, nelle ultime quattro settimane, ha incassato qualcosa come 45,5 milioni di euro per una plusvalenza di 41,5. Una società che aveva appena comprato Cristiano Ronaldo, appena, l'estate scorsa, e aveva bisogno di incassare plusvalenze, ci è riuscita in modo brillante, perché ha piazzato giocatori che erano, tra virgolette, fuori rosa, fuori dal progetto Allegri e quindi ha venduto giocatori che non hanno indebolito la rosa a disposizione di Allegri, almeno quest'anno, e ha incassato una somma importante, perché parliamo di 45 milioni di euro, è una somma sicuramente notevole, soprattutto considerando giocatori che non erano nel progetto Juve. Poi il tempo ci dirà se Audero, Cherry, sono dei giocatori che magari la Juve doveva tenere perché futuri campioni. Sussurraro mi sono già espresso e non credo che succederà, arriverà l'esplosione del giocatore. Però va detto che l'abilità della Juve è stata quella di piazzare giocatori fuori rosa, tra virgolette, a prezzi straordinari. E' questo che rende la Juve, a mio avviso, è uno dei motivi che rende la Juve adesso la squadra più forte d'Europa. Ciao, se ti è piaciuto questo video, clicca il bottone iscriviti e la campanella, in modo tale che riceverai una notifica ogni volta che effettuerò un nuovo video. Inoltre fammi sapere se ti è piaciuto l'argomento, se ritieni che ho ragione, che la Juve ha fatto molto bene, o se pensi che la Juve ha sbagliato ad accendere questi talenti. Usa i commenti sotto per farmi sapere le tue opinioni. Grazie. Grazie.